cos'è? quale dobbiamo fare? no non sono quelle, rispondi liberamente rispondi liberamente! e anche oggi i preferiti del mese ciao a tutti! si e benvenuti qui sul canale lo sapete perché hai detto rispondi liberamente? perché di solito molto spesso le risposte prima gliele sistema un po' io no? perché lui figuratevi se risponde a tutte le domande invece questa volta non ho preparato nulla qui dovrà ricordarsi lui le cose che ha preferito wow! veramente! c'è qualcuno? no nessuno! sempre libero! bene e allora iniziamo quale domanda facciamo? cominciamo adesso ne scelgo random allora innanzitutto salutiamo i nostri amici salutiamo maore e antonio ciao ragazzi! non vediamo l'ora di venire a panorama a trovarvi di nuovo poi salutiamo la nostra amica marta ciao marta! ciao marta! non vediamo l'ora non vediamo l'ora di venire anche da te in sardegna non ho problema a darti un bacino passiamo da palermo ci pigliamo il traghetto e saliamo per la sardegna vero? ti piace? va bene! allora allora i loro video ve li lasciamo qua tra le schede informative i loro canali i link giù nel box informazioni andateli a trovare perché sono dei ragazzi splendidi 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 splendidi! adesso cominciamo subito perché sennò Gabriele dice che perdo troppo tempo a promuovere i canali degli altri cosa che per me non è vera bene e quindi dopo questa promozione andiamo a dispondere alla prima domanda allora tu scegli le domande per me e io scelgo le domande per te sceglierò le più difficili sapete qual è la tua scoperta del mese? la mia scoperta o fissazione del mese è la domanda allora la mia scoperta o fissazione del mese fissazione forse più che scoperta i kiwi i kiwi bio perché i kiwi bio ragazzi voi forse non lo sapete almeno qui in Sicilia i kiwi li vendono a livello ciotoli pietre, mazzagani sono durissimi e non maturano mai mentre nei negozi bio e anche all'Auchan nel reparto bio li trovate anche con la muffa? no? ci sono i vassoietti dei kiwi bio che sono morbidissimi e dolcissimi io per la prima volta nella vita questo mese ho imparato che i kiwi sono buoni a me facciamo più schifo invece kiwi, kiwi, kiwi e invece la tua? la mia fissazione del mese? la mia fissazione del mese sono state le merendine tomarchio bugia e qual'è? il muffin di mcdonald ah vero, già, 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 vabbè ma sempre forma quella è possibile che debba rispondere io per te? ma che ti devo dire? sveglia, la scimmietta quella di omar quella con i kiwi sì, quella di omar bene, allora sì, è vero, i muffin, quelli la nutella che vendono da mcdonald, quei simpatici ragazzi hanno creato una splendida novità il muffin alla nutella sapete cosa ha fatto il signorino? la prima volta l'abbiamo preso, l'abbiamo diviso e la nutella era morbida, morbida la seconda volta c'era un operatore un pochettino più lavativo e gli era dato freddo, freddo bello ghiacciato, col cuore ghiacciato di nutella se la sapete bella l'ha presa la terza volta perché lui questo mese l'ha preso ben tre volte io la seconda volta non l'ho preso e neanche la terza la terza volta sapete cosa ha fatto? io ho ordinato il cappuccino lui ho ordinato il cappuccino e poi gli fa è un muffin senta, cortesamente me lo riscalda? certo, devi riscaldarlo operatore 20 secondi perché se no ti mangi una pietra un muffin morbido con la pietra andate al McDonald's fatevi riscaldare il muffin dai forza fai tu un'altra domanda allora la verdura frutta del mese la verdura frutta del mese ebbene questo mese come frutta le arance io invece le fragole brava e vi dirò di più le fragole con la panna le abbiamo fatte più domeniche di fila monella, monella buone poi poi l'acquisto del mese non è un acquisto è un regalo un regalo di Natale un regalo di Natale che è arrivato a Pasqua sì perché voi dovete sapere che da noi funziona così diciamo che beh ogni tanto i legami parentali si slegano si riallacciano e si allungano si dilatano nel tempo e quindi la Pasqua è come il Natale e il Natale è come diciamo che le feste sono sempre una bella occasione per ritrovare la famiglia quindi la famiglia i pezzi di famiglia che si erano un po' persi prima di Natale si sono riacquisiti con la Pasqua bene lasciando corto perché comunque il succo l'avete capito è che vai a prenderlo scusate come donna ma come ti permetti è arrivato il grill da tavola chi non ha un grill da tavola ragazzi allora questo è un regalo che è fatto al 90% delle persone magari risulterebbe una cosina in più invece a noi piace un botto ci ha azzeccato ci ha azzeccato e lo utilizzeremo non soltanto a tavola non credo perché da portare a tavola secondo me specialmente noi noi mangiamo non in cucina noi mangiamo in camera da pranzo perché la cucina è un buco quindi non ci sta il tavolo non perché siamo sofisticati ma siamo sofisticati invece di la verità dai una questione proprio di esigenze logistiche ma quindi avrei paura che mi vada a fuoco con la camera ma lo useremo per i picnic per i picnic e per le gite fuori porta una bella grigliata invece del barbecue come non è pratico non è pratico ma ce lo facciamo ce lo facciamo impratichire ci è piaciuto e vi diremo come ci troviamo poi qual è il tuo spezza fame del mese il mio spezza fame ahia il mio spezza fame del mese i pancake alla banana buoni buoni hai ragione allora non ho tante ricette in questo momento sul web di pancake fatti semplicemente con lo schiacciamento di polpa di banana farina e l'uovo dovevo provare quello dello schiacciamento di maroni io non ho spezza fame io faccio 5 pasti al giorno io lo ignoro io non ho spezza fame io faccio 5 pasti al giorno tra cui la merenda e lo spuntino molto spesso per merenda ho fatto questi però al cacao perché ci è aggiunto anche il cioccolato se vi interessa la ricetta fatemelo sapere che ve la faccio non l'ho fatta perché in questo momento veramente il web è inondato ho occupato beh il mio è la solita barretta ma kindermaxi che noia va bene la ricetta del mese la ricetta del mese bene sicuramente quella che abbiamo realizzato il mese quello là la ricetta del mese secondo me beh secondo me è il coso la è composta tutte le sfogliatine le rose ah sì per me la ricetta del mese sono le rose quelle là però con quelle dolci ah no anche quelle salate sono però quelle dolci quelle dolci con la mela l'ubetta e invece per me la ricetta del mese è stata la collura che faccio sempre a Pasqua vi lascio qui nella nella i la ricetta ma migliore che la i però è da questo lato è da questo lato da qualche parte qui c'è la i cercate cliccate vedrete i vidi i video che sono ivi contenuti volevo dire e tra questi troverete anche la ricetta della collura che è un dolce di Pasqua di Pasqua buonissimo che già vi ho proposto fatelo anche non a Pasqua perché è una merenda so good benissimo poi il prodotto apri e gusta del mese senza dubbio senza dubbio è la pasta sfoglia abbiamo usato la pasta sfoglia Bail Bake in 2255 miliardi di varianti molto buona sfoglia molto bene non è un prodotto apri il gusto nel vero senso della parola nel senso che non è un'insalatissima una roba che te la apri e te la mangi però accorcia il lavoro della preparazione della pasta sfoglia in maniera esagerata chi non fa la pasta sfoglia a casa ormai nessuno però è buona l'immancabile voi dovete sapere che c'è sempre questo mentre noi facciamo i video allora l'alimento panacea del mese quindi quella cosa che è usato nell'alimentazione per stare meglio la il coso come si chiama lo sciroppo di non mi sta avvenendo il nome d'agave no d'agave d'aloe d'aloe d'agave va bene va bene sciroppo quello là che in due varianti ho preso le bottigliette sia quella là puro acqua e agave e quello là al limone devo dire che tutte e due sono buone ma funziona non hai avuto giovamento si 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 faccio più plin plin davvero ti giuro ti giuro ti giuro sull'agave il mio prodotto panacea del mese invece è stato il cioccolato delle uova di pasqua proprio due cose uguali no perché tu fai una panacea fisica io parlo di una panacea psicologica uno si spreme a comprare l'indcafra e poi l'uovo che mi piace di più da sempre è l'uovo bauli l'uovo bauli grandi firme lui e lei ma il cioccolato è buono il cioccolato bauli è buono ce l'ha regalato nonno Claudio anzi lo ha regalato a Enzo però gliel'ha regalato al latte Enzo piace fondente e quindi io mi sono sacrificata e me lo sono spazzolata bravissima ma il adesso mi allaccio al troppo caro il troppo caro del mese secondo me il troppo caro del mese è il sushi quello là che tu vuoi sempre 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 è vero ancora il sushi è troppo caro è troppo caro va bene però invece io voglio parlare di un'altra cosa secondo me il troppo caro del mese è una speculazione assurda e qui mi metto contro tutte le case produttrici di cioccolato è l'uovo di Pasqua l'uovo di Pasqua è vero è prezzi per passaggi ci sono uova di Pasqua che costano 240 euro per avere la sorpresa no vabbè per avere due chili di cioccolato due chili di cioccolato 240 euro ragazzi sì non dico le parti perché sennò mi querelano quanto le marche blasonate cioè si fanno pagare l'uovo fateci attenzione è cioccolato piuttosto fatevelo voi comprate le tavolette blasonate vi comprate uno stampo che lo comprate una volta e poi non lo non lo buttate più sciogliete quelle tavolette lo portate vi facciamo mettiamo tra le schede informative anche lì il video in cui vi facciamo vedere come si tempere il cioccolato che non significa passarlo col tempera matite ma significa farlo rimanere lucido una volta consolidato avrei detto la prima e fatevelo voi io mi rifiuto di pagare due chili di cioccolata 240 euro anche se voglio fare un uovo grosso ma che uovo era? le uova famose le uova quelle del metro cioccolatier maledetto metro cioccolatier ma che ti fai con i soldi? insomma insomma maledetto cioè è cioccolata ragazzi mica è oro pensavo che fosse un uovo fabbrici bravo bravo troppo cioè non spendiamo sti soldi non per dire chi li ha chi li vuole spendere li spenda capite bene che però è una speculazione che è basata su nulla sono d'accordo con te oltre alle trivelle votiamo anche per il sì la procurazione del metro cioccolatier no di lui di tutte le case perché tutte le case ci speculano ed è una privazione poi però fanno le uova anche per i supermercati e hanno un altro sapore è vero questo è vero questo è importante dirlo giusto? perché le stesse case blasonate che vendono nelle loro boutique blasonate uova a prezzi blasonati poi vendono una linea a supermercato dove ti dicono che il cioccolato è bla 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 ma se voi assaggiate quel cioccolato non è come il cioccolato che usano per le uova parole forti e le uova che si trovano là non si trovano nelle boutique parole forti c'è aree di denuncia di querela quindi basta così io parlo in generale in generale basta così poi poi cosa di quindi attenti cioccolato sì ma cioccolato a prezzi giusti non dico lo costo perché il cioccolato no voglio parlare la mia battaglia sul cioccolato è importante non dico lo costo perché il cioccolato deve essere di buona qualità per fare bene per essere un elemento panacea ma al giusto prezzo è sempre solo cioccolato va bene allora il flop del mese per me è stata una colomba su cui avevo riposto grandi aspettative tu non sei d'accordo a lui è piaciuta tanto a me no abbiamo comprato una colomba fiasconaro che è un fiore all'occhiello della nostra pasticceria siciliana quindi mi dispiace bucciarla ne ho comprate addirittura tre perché le ho regalate va bene va bene deve essere più sintetica dite secondo me secondo me non gli è piaciuto non gli è piaciuta questa colomba perché forse ha dei gusti più da panettone più da panettone brava sono d'accordo con te che non da colomba giusto quindi è vero però è buona è buona ma è inutile che mi fai un panettone a forma di colomba panettone a forma di vabbè sono due impasti diversi quindi fammi la colomba con le varianti e il panettone poi io te lo ricompro perché sono il top per fare i panettoni la fiasconaro è un'azienda top ve la faremo con noi se già non la veste sono buonissime però sono rimasta un po' delusa dal fatto che non avesse il sapore della colomba ma del panettone noi l'abbiamo presa a cioccolato e pera che doveva essere una goduria io non ho flop del mese quindi io mangio tutto mangio tutto e quindi posso allora il progetto buon proposito del mese ce l'ho durerà per tre mesi e non ve lo dico perché lui già sbuffa il mio progetto buon proposito del mese partirà dal 2 di aprile 3 di aprile e durerà fino a tutto giugno e sarà un progetto di ristrutturazione corporea basato sul fitness il cibo e il non mollare non mollare non mollare voglio fare una combo combo sono d'accordo con te e quindi ti appoggerò in questo tuo progetto naturalmente nel senso che ti appoggi non che fai come ginnastica penso proprio di no il cibo straniero del mese sai che buon sai che buon è il mio cibo del mese non è il mio cibo del mese è il suo cibo del mese ha voluto comprare il sai che buon sai che buon agghiacciante ma a lui piace quello verde in pratica è spaghetti in brodo noodles sono dei noodles dove basta versare l'acqua calda e fai lo schifo però a lui piacciono perché gli piace la pubblicità e quindi siccome la pubblicità è l'anima del commercio è fuori alle menge lo metterei anche come prodotto assurdo è anche un prodotto un po' assurdo si 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 la ricetta che più desideri realizzare anzi la ricetta che più desideri che io realizzi allora mi piacerebbe e fa parte della nostra pasticceria catanese credo più che altro pezzi di colazione mi piacerebbe mi piacerebbe vedere realizzato e mangiare naturalmente gli involtini al cioccolato dai sei un maiale beh sarà questo maione un porcello perché sono delle cose azzurde no non è vero ma che non è vero sono tipo 2000 calorie a pezzo bene i nostri amici devono essere consapevoli di questa cosa a me non piace tanto è semplice da fare ci vuole la pasta sfoglia ve lo farò ve lo farò mentre quello che voglio di fare io se tu sei d'accordo e se voi siete d'accordo fatemelo sapere sono i muffin alla nutella del McDonald's brava devo dire che mi trovi d'accordo su tutto e dovrò usare la nutella perché quelli sono alla nutella come peccato basta fermiamoci qui questi sono i nostri preferiti del mese e anche quello che abbiamo un pochettino sgranocchiato durante questo mese speriamo di avervi tenuto compagnia devi dire qualcosa? no no non devo dire niente no vi ringrazio sempre per i vostri complimenti naturalmente salutiamo tutti non possiamo salutare tutte le persone singolarmente ma mandiamo un grosso bacio a tutti quanti vi ringrazio però se volete hai detto tu ho avuto un'idea mi è venuta un'idea ora ogni volta prima del video di questo video io farò una foto che metterò su Instagram e tra le persone che ci saluteranno su Instagram le ultime dieci noi le saluteremo cioè le ultime dieci nei commenti noi le saluteremo mi piace questo tuo modo di complicare le cose è una cosa che ti si dice è carino mettiamo la foto di un nostro piatto sotto le ultime dieci sotto l'ultima foto prima del video le ultime dieci persone le salutiamo non so perché trovi carino complicare sempre tutto ma va bene così ci seguono su Instagram si si va bene e quindi vi ringraziamo naturalmente condividete questo video iscrivetevi alla pagina se non l'avete fatto e mi raccomando provate tutte le ricette perché questo è un canale veramente formidabile dove le ricette funzionano nella serie noi non ci mentiamo affatto eh ragazzi invece altri due canali formidabili sono quelli di Mauro Antonio e Marta vi consigliamo anche loro eh sì un po' che meno un po' che cosa avrei voluto dire cosa avrei voluto dire questa donna è bello avere un marito che è fiero di te però insomma un po' di modestia ragazzi bene e quindi siccome sono fiero di te mi raccomando seguite questa donna se volete ancora usufruire della sua simpatia della sua creatività sia sul canale Ombretta dove si parla di fesserie al femminile non ho capito fesserie al femminile sì cose femminili ma insomma non si parla affatto di fesserie ci sono dei grandi argomenti grandi argomenti che salveranno l'umanità e invece se veramente volete salvare la vostra anima seguite Arte per te dove oltre ai simpatici lavoretti di creatività che piacciono a tutti e mi raccomando quindi cliccate sempre e guardateli in quantità ci sono anche argomenti più seri come la storia dell'arte i vari corsi di restauro e mi raccomando naturalmente seguitici sempre anche qua bene dopo questo spot pubblicitario a noi non ci rimane altro che salutarvi e rivederci sempre qui sulle vostre tavole ciao ciao pazzo